Parliamo di quello che sta accadendo nel centro d'Italia e di quelle che sono le emozioni, la disperazione e il dolore che tutti noi stiamo vivendo anche se a distanza. Non ci si può tirare indietro dal discutere su quello che sta avvenendo in una parte del nostro Paese grazie anche al contributo di alcuni volontari che sono partiti anche dalla Sicilia ma che sono arrivati da tutto il resto d'Italia. Ma non si può non parlare anche di come i media ci stanno raccontando questa ennesima tragedia italiana e anche di quello che sta accadendo invece sui social network dove persone tranquillamente sedute alla scrivania davanti a un computer decidono di parlare di tutto molto spesso senza sapere quello che stanno dicendo e soprattutto alimentano elementi pericolosi per una società che si definisce civile per esempio il razzismo. Leggere che è meglio mandare gli sfollati negli alberghi e tirare fuori gli extracomunitari e mandarli per strada certamente non è qualcosa che fa onore a questo Paese. Le polemiche politiche, la mancanza di rispetto per persone che hanno delle storie veramente tragiche perché scappare da una guerra non significa venire qui per rubare o lucrare quindi bisogna fare una grande differenza, cosa che molto spesso non facciamo tra chi fugge e chi invece viene qui per delinquere e tutto questo farlo diventare argomento di dibattito da bar, quasi come se stessimo parlando non di vite umane ma di cose che in qualche modo riguardano il nostro essere umani, persone che devono dell'amore ad altre persone e il terremoto ha scatenato un altro terremoto parallelo al nostro interno. Abbiamo tirato fuori non sempre il meglio ma spesso il peggio e quindi da una parte c'è un'Italia solidale, c'è un'Italia che si mette in discussione, c'è un'Italia che si mette a disposizione, c'è un'Italia che ha voglia di reagire a quest'ennesima tragedia, dall'altra c'è un'Italia insofferente e che vuole a tutti i costi sfruttare questa ennesima tragedia per cercare di avere un profitto personale. Naturalmente le narrazioni sono le narrazioni che si possono fare durante un terremoto, non ho trovato devo dire da persona che studia i fenomeni della comunicazione molto gradevole sentire la voce delle persone disperate che telefonavano al 118, che telefonavano alle forze dell'ordine. Mi è sembrata un'ulteriore violenza a delle persone che stanno soffrendo. Riflettiamo su quello che stiamo facendo e riflettiamo su quello che possiamo fare e su quello che dobbiamo fare.